Basta delle storie. Dominio. Questo obiettivo è mio. Conquistiamo l'obiettivo. Prendiamo B. L'ho preso C. Alpha è in mano nostra. Alpha è in mano nostra. Prendiamo il controllo. Prendiamo il controllo. Prendiamo il controllo. Prendiamo bravo. Prendiamo il controllo. 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 Oh, no. Sì, sì, sì. 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 Inversione parti. Catturiamo l'obiettivo. Prendiamo Charlie. Prendiamo Bravo. Prendiamo l'obiettivo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.